Sì, è tardi, è tardi, è tardi, è tardi. È tardi, è tardi, è tardi, è tardi. Sofia, ma non viene a fare colazione, si sta raffreddando. La faccio dopo papà, scappo. È tardi. Ma guarda, te sempre di corsa. Ti è caduto un libro. Giulietta Romeo, conosco la stor... Giulietta Romeo? All'Istituto Tecnico Commerciale? Sì, per il compito in classe di... Di? Calcolo. Ma no, che roba nuova. Calcolo a occhio. Non è facile, come funziona? È una materia nuova. Immagino, immagino. Quante pagine ci sono secondo te? Così, al volo. Ma come faccio a saperlo? È proprio questo il bello di questa materia. Almeno mille, mille due. No, 252. Ma no, fammi vedere, è possibile che ho sbagliato? No! È tardissimo, scappo. Sarà per la prossima, eh? Non mi freghi. Sono almeno mille, mille due, perché sono stampate di qua e anche di là. Cioè, a dirlo a me, viene a dirlo. Claudio, sì, fa il carabiniere. Bart, Tino. E Allegra, l'ho vista, che stai entrando sul piatto. Accomodati. Stavo parlando dello spettacolo che dovete mettere in scena, quello di... Le esercitazioni di teatro di fine trimestre, sì. Una prova molto importante, che dovete far bene. Lavorare a sodo perché le pagelle, se no, si rovinano. Cosa c'è? Prof, noi abbiamo portato delle opere da proporle per l'esercitazione. Ah, interessante. Allora sceglielo una. Tu, Greg, che mi propone? I vestiti nuovi dell'Un... Io voglio fare un esperimento. Ho preso un'opera lirica, ho tolto la musica ed è rimasta una storia divertentissima. La cazzaladra. La cazzaladra. I gialli sono una roba da vecchie. Ma non è un giallo, è un'opera lirica. Rossini, l'hai mai sentita questa? Grazie, basta. E comunque mai sentita? Il video gira sul web? No, perché? Allora non esiste. Non esiste. Bart? Che ne dice di Grease? Ci sono le macchine, c'è la musica, la brillantina. Non male, potrebbe essere. Allegra? Io sono andata sul classico. Romeo e Giulietta è una delle storie d'amore più belle di sempre. Tocca a me. Marion e Romeo, scritto, diretto e interpretato da Marion Minelli. Credo che da qualche parte ci siete anche voi. Abbiamo portato la stessa storia, no? No, cara, questa è una versione nuova, piena di passioni, risate e un bel lieto fine. In una tragedia? Il professore non ti lascerà strafazzare Shakespeare in questo modo? Vero? Vero. In effetti Marion, io penso che... Il professor De Blasi è desiderato in presidenza. Adesso? Penso che andrò. È la fine.